Allora Lamin, sei contento di essere arrivato a Sanremo? Sì, sono contentissimo, certo L'obiettivo è quello di vincere il campionato, immagino Come sempre È la prima volta che vedrai la squadra oggi o hai già visto qualcosa in video? La squadra è la prima volta che lo vedo dal vivo Però come di solito seguivo anche questo girone Quindi l'ho visto un paio di volte Quando fanno vedere le highlights su... Direttantissimo Hai già pensato più o meno come inserirti nella squadra? Questo lo facciamo ad essere dal mister Sì, però dipende dal mister Io sono disponibile È l'unica cosa che posso dire Quindi sei pronto per dare il tuo contributo? Sono sempre pronto io